Figli delle app, le nuove generazioni digital popolare e social dipendenti. Questo è il titolo dell'ultimo saggio del giornalista e sociologo Francesco Pira, professore associato all'Università di Messina, che per l'editore Franco Angeli propone una fotografia aggiornata del condizionamento sempre più intenso della rete delle tecnologie nei confronti di bambini e adolescenti, non solo per i pericoli che corrono, ma anche per quella che emerge come un'oggettiva incapacità da parte dei genitori a gestirli. Qual è la tesi più importante che è contenuta all'interno di questo nuovo libro? È una tesi che purtroppo trova dei riscontri anche nell'ultimo rapporto dell'Unicef e anche nel pronunciamento dei Medici del Bambin Gesù. Fragilità, spinta verso crisi depressive, solitudine e anche la voglia di farla finita attraverso l'autolesionismo prima, il suicidio dopo. Naturalmente dalla mia ricerca emerge un quadro più legato all'uso delle tecnologie durante la pandemia, infatti il terzo capitolo contiene proprio una ricerca, un'indagine, da cui viene fuori il quadro di adolescenti che si sentono soli, che cercano di vivere la loro giornata tra il reale, per come possono, visto che c'è il distanziamento, e il virtuale. Emerge un preadolescente e un adolescente che ha voglia di esprimersi attraverso i profili falsi ed è un adolescente che ha bisogno di parlare con l'adulto. Questo è il quadro che viene fuori, che non è a mio parere un quadro completamente sconfortante, ma è un quadro che ci pone il tema dell'emergenza educativa, il bisogno di un dialogo costante tra genitori e figli, l'impegno e la responsabilità che la società deve avere per fare crescere questi ragazzi migliori e soprattutto per non fermare i loro sogni. Ecco, noi non possiamo essere la generazione che si assume la responsabilità di uccidere i sogni dei ragazzi. Un libro ricco di spunti, frutto di un'elaborazione attenta fatta da Francesco Pira, anche alla luce di una legislazione che a gioco forza ha cercato di adeguarsi alle criticità emergenti. Sono dell'idea che noi dobbiamo lavorare tantissimo sulla prevenzione. Il nostro è un paese che ha il più alto numero di leggi in Europa, abbiamo fatto una legge sul cyberbullismo, una sullo stalking, una sul revenge porn, adesso c'è il tema del body shaming. Non possiamo fare una legge ogni qualvolta si crea un problema. Dobbiamo lavorare culturalmente su due strade e dobbiamo percorrere due strade. La prima strada è quella di fare ai ragazzi, anche più piccoli, anche agli elementari, educazione alle emozioni, al rispetto del proprio corpo e di quello degli altri. E soprattutto uso consapevole delle tecnologie. Contemporaneamente dobbiamo lavorare per una scuola per genitori, perché i genitori devono essere consapevoli fino in fondo di quello che fanno i loro figli. Mi capita di avere in questi giorni rapporti con ragazzi delle scuole elementari attraverso webinar. Vi posso assicurare che tutti sono regolarmente iscritti a TikTok, nonostante gli strali del garante per la privacy, e nonostante lo stesso TikTok ha annunciato che un'applicazione di intelligenza artificiale permetterà il riconoscimento dei più piccoli. È tutto molto difficile se noi non lavoriamo invece per spiegare ai nostri figli quelle che sono le grandi opportunità della rete, ma anche quelle che possono essere i pericoli. Noi abbiamo una generazione di adulti che sociologicamente abbiamo definito adultescente. Sono adulti che non hanno voglia di invecchiare, sono adulti che si sentono ragazzi, sono adulti che molto spesso dicono ai figli che sono amici. C'è questa spinta sociale nell'essere perfetti, nell'avere il corpo perfetto, nel non avere rughe. Tutto questo ci porta poi a non comprendere anche quali sono le fasi della vita. Ci sono degli stereotipi che ci portano a non vivere anche la nostra maturità per come dovremmo. Penso alle mamme con le minigonne più corte delle figlie, penso ai papà super depilati, penso a zainetti piccolissimi che diventano il simbolo di questa adultescenza. Credo che invece noi dobbiamo fare gli adulti, che non possiamo essere amici dei nostri figli e che rappresentiamo autorità e autorevolezza per loro e quindi dobbiamo cercare di dire qualche no in più e di capire che questi ragazzi hanno bisogno di non essere giudicati, di non essere considerati dei marziani, ma di essere persone che hanno bisogno di effetto, non soltanto un rapporto quantitativo ma anche qualitativo. Grazie a tutti.